Lei arriva direttamente dagli Stati Uniti? Esattamente, da Atlanta per la precisione, ha una voce black ma di quelle che veramente oggi non si dimenticano l'avete già sentita perché era suo l'Amazing Grace durante i Vespri e ha già commosso la Piazza di Tolentino è un artista che si è preparata, ha studiato fortemente perché non dimentichiamoci che per stare sul palcoscenico così come nella vita non è importante soltanto l'obiettivo ma il modo attraverso il quale lo si raggiunge quindi la voglia di perfezionarsi, di lavorare, di meritarsi proprio le esperienze ed è un po' il caso della nostra artista perché ha studiato in Università di fama internazionale in America fino ad insegnare arti drammatiche nell'University of California di Santa Barbara e pensate che è un caso pressoché unico di cantante black gospel cattolica negli Stati Uniti la cogliamo insieme perché lei è Vallimar Johnson buona sera 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 grazie